Colpi di scena che si susseguono nell'operazione rinascita del calcio andriese, notizie clamorose che riguardano la composizione dell'organigramma della SS di Fidelisandria 2018. Le ultime voci infatti raccontano di un possibile ingresso nella nuova società del Molfettese Mauro Lanza. Nulla di ufficiale ancora, ma il diretto interessato lo scorso anno al timone dirigenziale dello Sporting Fulgore in Serie D si è già seduto al tavolo della discussione sia con le istituzioni che con l'avvocato Marco Di Vincenzo, garante della Fondazione degli Andriesi. Lo stesso Lanza avrebbe già dato la disponibilità ad affiancare alcuni imprenditori locali, partecipando alla realtà biancazzura con una quota maggioritaria e manifestando l'intenzione di ricoprire l'incarico di presidente della Fidelisandria. Diventerebbero, se l'operazione andasse in porto, dunque tre le squadre di proprietà della famiglia Lanza, suo figlio Gian Maria è attualmente titolare della Vigortrani, sua figlia Antonia invece della Molfetta Sportiva, che durante questa incredibile estate ha acquisito il titolo dall'USB Tonto mediante la formula della fusione. Alla luce dell'ultimo colpo di scena, che ha visto come protagonista proprio Mauro Lanza, è slittata domani l'affiliazione della SSD Fidelisandria 2018 presso gli uffici della FIGIC Puglia a Bari, prevista inizialmente per questa mattina, idem la costituzione dal notaio della nuova società che potrebbe già materializzarsi nella serata di oggi, salvo colpi di scena naturalmente che in questa calda estate andriese non sono mai da escludere.